Tu guardi, ti gira i due? Oppure Telecinco? Telecinco? Italia sei? Italia sei? Italia quattro? No, è un'altra divisione. No, dove trovi informazione? Se la trovi su internet vuol dire che conosci Beppe Grillo? Beppe Grillo? Si lo conosco, però non mi ispira un gran pieno. Mi sembra un po' troppo... Dove trovi informazione? Informazione è qua dentro. Qua dentro? Si, è il mio pensiero. Però poi tu vedi, no? Senti. Vedo, sento e ragiona. Il naso funziona bene? Eh. Per dire, quando fai... Eh, e te non ti sei lavato ieri? No, no, scherzo. Per dire, hai anche il naso, hai anche la lingua. Sento la puzza del pericolo a un chiamato di distanza. No, però per dire, hai i sensi e li devi usare tutti quanti nella politica anche lì. No, perché ragiono con la mia testa, come dovrebbero fare tutti quanti. Allora, c'è un partito pirata in cosa consiste. C'è un partito pirata che dice, facciamo tutto il trasparente. Ma scusami, il partito pirata che conosco io è quello nato in Svezia. Bravo. Per la liberazione di Pirat Bay. E vari gruppi. Ne so, ne so, ne so pochissimo. Sugo, cos'è? Allora, i comunisti dicono, tutti quanti guadagniamo succo. 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 Succo è un'altra cosa, Adam. Ok. Succo è un'altra cosa. Succo è un'altra cosa. Che cazzo di... Scusa, no. No, ragazzi. È venuta una stronzata, è venuta da arrivare. No, ragazzi. Succo nella mia parte. Aspetta. No, vabbè. Tutto rispetto. Io sono di Braga. Avanti, di Braga. Ti chiami? Io sono pirata. Nome, nome, nome. What's your name? Piratoni. Piratoni? Piratoni. Ok. Piratoni. Cioè, tu c'hai il tesserarci? Sì. Cosa c'è scritto sulla tesserarci? Che ho pagato. Non è che hai pagato, però c'è anche tu un nome. Eh, sì. Tu sei piratoni? Piratoni. No. No, no, no. Quindi vedi che non è che poi... Fammi una foto immediatamente con lui la voglio assentare. Allora, io del politica, perché anch'io sono un anarchista, non me ne fote un cazzo. Però capisco che se tu mi dici, facciamo tutto che tutti possono vedere, che cazzo stai facendo tu, visto che lo fai per tutti, benissimo. Trasparenza in primo caso. Pirati vuole trasparenza. Grillo vuole trasparenza però fincata forse in un altro modo. Però trasparenza. Basta. Voleo suona trasparenza. Va bene. Ehi, bello, volevo sapere perché ridi, visto che sei politico. Perché sono un coglione. Brava. Anch'io lo sono e riderò e speriamo che con noi ridino altri. Bisogna ridere in faccia alla vita, perché sennò si è tristi. Cosa ne pensi di quello che è successo a Parigi ieri? Infatti. Allora, la moneta ha sempre due parti. Ok? E tu puoi guardarla in vari momenti, ok? Di questo giro che fa la moneta. In ogni giro che lo guardi ti fai il tuo pensiero di una persona più o meno posata, con i radici di quella parte. Però comunque varia sempre c'è una cosa due monete. Ah, è vero. Però... Vuoi chiedere che è un secondo? Tu hai parlato di Grillo, ok? Io ho visto le posizioni del partito appoggiato da Grillo. Soprattutto... Chi è partito appoggiato da Grillo? Grillo va perseno. Parliamo del 5 Stelle. Ok? Quindi con la voce di Grillo, con l'informazione che passa Grillo attraverso il social network, quindi internet, che parlava di non tornano i conti riguardo alle immagini trasmesse di quello che è successo in questi giorni. E va bene. Allora, io ti posso dire che 3 su 10 italiani mi dicono chi cazzo vuoi? Sei stupido così tanto da lasciare in una macchina la tua carta d'identità dopo aver ucciso 16 persone. Non è quello, non è quello, è il filmato del poliziotto ammazzato per strada. Sì, ti dico, io vado ogni mattina a prendere alle 9 e mezza un cappuccino tra una ventina di vecchietti tra 68 e 90 anni italiani e lombardi, tutti quanti sono convinti che il francese sono buona niente e questi qui prendete il primo musulmano che trovate e impiccatelo subito perché questo lo fanno. È spazzantissimo questa cosa. È forza, è spazzantissimo, però... Quello che mi fa dubitare dei discorsi che fa Grillo è il fatto di dubitare ogni volta di quello che vede perché c'è sempre un complotto dietro. Tipo il filmato del poliziotto ammazzato siccome non si vede la sua testa esplodere allora c'è un complotto dietro quindi il filmato è falso. A me non sta bene questa cosa. Ma bandiera rossa per chi? Pirati. Siamo pirati. C'è qualche problema? No, non c'è problema. CCCP? Qualcuno è sovietico? Vuole una bandiera rossa? È un gruppo di musica. Bravo! Allora... Un gruppo di musica può avere qualsiasi bandiera che vuole, va bene? Però bisogna che suoni. Voi suonate? Noi suoniamo è di brutto, eh. E solchiamo i mari. E quello è... Cosa è il piatto? Io devo andare a trovare una golf. Devo andare a trovare da mangiare. Cioè andate... Abbiamo da qualche parte a mangiare. Dobbiamo mangiare... Era solo la curiosità di sapere cosa ci facevi con la bandiera dei pirati. Tutto qua. Potremmo parlare per ore. La mia bandiera preferita. Bravo. Ok. Per non spuntanare i russi con CCCP. Belgi in questo periodo, francesi. Italiani quando dicono cosa. Continua a fare quello che stai facendo. L'importante è che sostieni le tue idee per sempre. Se tu fai la stessa cosa presto ci rivederemo. Sì io... Non dico qua ma da un'altra parte. Non tocco palle però perché... No no nel senso... Non è che schiattiamo... Ti do il mignolo per rispetto. Ma lei hai già dato il mignolo per... Allora per un cino. Un cino. E anche un po' per igiene. Cioè igiene va bene. Visto che hai toccato le palle prima di saltare. No non le ho toccate. Non le ho toccate. Se le ho toccate sono tutto velocissimo. Va bene. Mignolo comunque. Rispetto. Ma è terza volta questo. Dio basta. Allora 1, 2, 3. Mignolo anche per te. E vai. E via ok. A maglietta. Allora vado a cercare lì una golf con il mio amico. Ho lì un da mangiare e vado a casa con la macchina. Da un guidi tu. Grandissimo. Da un guidi tu. Secondo te. Ah vabbè io chiedo la mia sicurezza. Avete una sigaretta? Avete uno schiaffo? No. Guiglio però abito molto vicino. Ah no. Fai io. Sono in un elfo. Fino la rincontrata. La ragazza lì. Arriva. Fa. Avete una sigaretta? E lui gli fa. Se gli dai uno schiaffo te la do. Amato uno schiaffo e gli dai una sigaretta. Tu sei il mio giocattolo. Grande. Funziona. Ti posso dare due sul... Ti puoi dare uno schiaffo? Un triangolo. Lei lo schiaffo è una donna. Ci può anche stare a te. Mi sa chi subito. Sicuro. Quindi. La strada per finire dopo il gancio. No. Non vomiti eh. Stai dal giro. No. Non fumo neanche. Tu devi guidare. Bravo. Guida lui. Tu sei sano? Sì sì. Ti fai vedere come farei la curva qua? La curva al tamburello. È semplice. Allora lui guida. Allora. E noi finisimo a fare il contropeso. Oh. Sì. Esatto. È fudente. È troppo pericoso eh. Uno, due, tre, quattro. McDonald. Sì. Probabile. E va che McDonald è brutta roba eh. Allora io paio di volte ho portato un po' di persone con me in macchina. Ok. Quando tre dicevano McDonald tu potevi massimo massimo dire. Probabile. No. 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 Non mangiare. No. Non mangiare. Io arrivo a casa e mi aspetta un bel insalatone. Bravo. Una scatola di pesce cane. Pesce cane? Pesce cane. Ah ah ok… Pesce scatida. Pesce spanga. Salata e pesci catani. Sì, certo. Pesce catarame… Catrami simiii. Pesce catarame. Bonissimo.